Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in apertura all'emergenza sanitaria. Sarà un Natale diverso ma non per questo meno autentico. Queste le parole del Premier Conte che ieri ha presentato le misure che verranno applicate durante il periodo natalizio. Salgono i casi di contagio da Covid così come i guariti su tutto il territorio vesuviano abbiamo fatto il punto della situazione. Poi la denuncia di una donna che ha perso il marito a causa del Covid e sta attraversando un vero e proprio calvario. La donna e il figlio disabile sono positivi. Ci sentiamo abbandonati il suo grido. Spazio poi alla cronaca con la Guardia di Finanza che nel napoletano ha scoperto uno studio dentistico abusivo. Il 52enne è stato colto sul fatto mentre effettuava una visita. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Nella giornata di ieri dopo le innumerevoli riunioni con le regioni il Premier Conte ha annunciato il nuovo DPCM di Natale che andrà in vigore da oggi 4 dicembre a venerdì 15 gennaio. Nella serata il Presidente del Consiglio ha illustrato in diretta da Palazzo Chigi le nuove misure per contenere la seconda ondata da Covid-19. Forti limitazioni continuando però ad applicare il principio delle zone. Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio per scongiurare la terza ondata del virus che potrebbe arrivare già in gennaio e potrebbe essere più violenta della prima e della seconda. Coprifuoco dalle 22 alle 5. Vietati tutti gli spostamenti tra regioni anche per raggiungere le seconde case, affermato Conte. Abbiamo riportato l'RT allo 0,91. C'è un calo di accessi ai pronti soccorso. Continuando così, nel giro di due settimane, vicino alle feste, tutte le regioni saranno gialle. Nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio saranno vietati anche spostamenti tra comuni. Ci si potrà sempre spostare per motivi di lavoro, salute e necessità e nei casi di necessità ricorre anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti. Riguardo lo shopping, il Presidente Conte è morbido. Non vogliamo limitare gli acquisti natalizi, i negozi quindi resteranno aperti fino alle 21, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi mercati e centri commerciali. Il Premier poi raccomanda fortemente nel periodo festivo di evitare pranzi e cenoni insieme ai non conviventi. In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini costringenti limitazioni, ma la cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani, ha continuato Conte. La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga, ha concluso. Numerose anche nella giornata di ieri le guarigioni registrate a Torre del Greco. Sono 98 le persone che hanno sconfitto il virus, comunicati anche 49 casi di positività al Covid-19, tutti i posti in isolamento domiciliare. Attestato inoltre un decesso di un soggetto classe 1962. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. Sono 695 i soggetti positivi, di cui 25 ospedalizzati, 1.322 guariti e 45 decessi. A Castellammare di Stabbia aumentano i tamponi e si abbassa il rapporto con i positivi in percentuale. Sono 44 i cittadini risultati positivi al virus, di cui 6 presentano sintomi lievi. Tra i nuovi contagiati accertati due ragazzi di 9 e 17 anni, ma soprattutto cittadini di età avanzata. Sono 6 i soggetti anziani tra gli 84 e 93 anni. Si registrano inoltre 23 nuovi guarigioni. Sale dunque il numero dei contagiati a Castellammare, che conta 1.474 attuali positivi. Il numero dei guariti supera quello dei contagiati nella città di Torre Annunziata. Sono 31 i nuovi casi di contagio e 41 le guarigioni nelle ultime 48 ore. Continua dunque a diminuire il numero dei positivi nella città. Sono 338 i cittadini attualmente positivi, di cui 324 posti in isolamento domiciliare e 14 ricoverati. Sale a 1096 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 737 guarite e 21 decedute. Sono ragazzi delicati e hanno bisogno di essere visti, perché noi non siamo dottori, noi siamo mamme, per quanto ci vogliamo dare da fare, però siamo mamme. Mamme con una paura addosso, stanchissime, perché possiamo da sole in casa con loro e dobbiamo fare tutto noi, infermiere, dottore e tutto. Ho detto quindi siamo stanchissime e siamo debolissimi. E' la denuncia ai microfoni di TV City di Carmela Russo, responsabile del comitato mamme disabili di Torre del Greco, nei confronti dell'Asla. Dopo il decesso del marito a causa del covid all'età di 66 anni, la donna aveva da subito segnalato all'ente sanitario la mancata assistenza nei suoi confronti e nei confronti del figlio disabile, entrambi positivi al virus. Ho segnalato già dalla settimana scorsa che a caso non vengono dottori a visitare questi ragazzi che sono già con patologie gravi, delicate, hanno bisogno di essere visti da dottori. Dopo le numerose segnalazioni, il direttore dell'Asla, Guido Colbisiero, appesa alla situazione, si è attivato per aiutare la famiglia in difficoltà. Mio figlio ha avuto febbre alta, cosa, non si è sentito bene. Io se non chiamavo il 118, che comunque fanno quelle visite proprio così formali, dottori, io non più di tanto, cioè qua a casa mia non è venuto nessuno, sono venuti oggi, sono venuti oggi, sono venuti in casa tutti imbaccuccati, questa dottorista, solo lei, senza niente in mano, solo un foglio da scrivere, senza un saturimetro, senza la macchinetta della pressione, senza quel macchinaggio per controllare se la respirazione in petto, i bronchi stavano bene o no. E queste me le chiamate visite, ma ci state prendendo in giro. Non ce la facciamo più, è il grido di disperazione della donna che si è sentita abbandonata a se stessa. Io sono arrabbiata nera, 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 perché veramente la sanità non sta facendo niente, non sta tutelando nessuno, perché ha il covid e ne conosco tante di persone che stanno in casa, abbandonate, e i dottori vengono attivati, lusca, ma lusca non esiste, e adesso che sono venuti da noi è come fossero fantasmi perché non fanno proprio niente. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro nel quartiere Soccavo del capologo partenopeo uno studio medico abusivo presso il quale un finto dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione. In particolare i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano hanno sorpreso il sedicente medico che, privo di titolo di studio e della relativa abilitazione, forniva illecitamente le prestazioni. Il denunciato è un 52 anni di Napoli colto sul fatto mentre effettuava una visita ad una paziente. Oltre che per esercizio abusivo della professione medica e violazione delle leggi sanitarie, il falso dentista è stato sanzionato anche per aver violato la normativa anticoid poiché non aveva mai effettuato una sanificazione dei locali. Sequestrato lo studio dentistico, composto da un locale e da un laboratorio odontotecnico, peraltro non sanificati e in precarie condizioni igienico-sanitarie, strumentazione medica di diverso genere, tra cui una poltrona da lavoro, attrezzature e materiale ad uso odontoiatrico e decine di fiali di anestetici. La sua posizione ora al vaglio delle fiamme gialle anche sotto il profilo fiscale, in quanto il soggetto è evasore totale non avendo presentato la dichiarazione dei redditi dal 2011. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e buon weekend. Grazie a tutti.